Il sesso senza amore è un tabù solo per le donne Charlize Theron, il sesso senza amore è un tabù solo per le donne Essere una star di Hollywood può essere un'arma a doppio taglio, l'esposizione mediatica è enorme e può scatenare critiche positive, ma anche negative Charlize Theron non si è mai preoccupata di quello che gli altri potessero pensare di lei e ha sempre fatto tesoro dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri, dimostrando una personalità a dir poco eccezionale Bellissima e talentuosa, l'attrice è da tempo impegnata nella lotta agli stereotipi, tra cui il tabù del sesso senza amore che riguarda tantissime donne Addio ai tabù, Charlize Theron a favore dell'uguaglianza di genere. Secondo la biondissima attrice, ancora oggi, esiste nell'immaginario collettivo di molte persone l'idea che il sesso senza amore compete esclusivamente agli uomini e non alle donne Per Charlize Theron questo fatto dimostra ancora una volta quanto la parità di genere sia lontana e sia necessario impegnare tempo ed energie per raggiungerla La star di Hollywood si è sempre dimostrata molto aperta, rivelando anche di trovare assolutamente normale l'idea che due donne possano avere un rapporto occasionale, senza per questo essere guardate con sdegno o giudizi L'amore e il sesso sono due cose distinti, che possono diventare complementari, ma non necessariamente, sta alle persone affrontare con maturità e rispetto ogni situazione in modo adeguato Grazie a questa dichiarazione, che ovviamente ha raggiunto migliaia di persone, la Theron ha ancora una volta portato avanti la sua bandiera in favore della libertà e dell'uguaglianza Una donna coraggiosa e determinata, capace di costruire una famiglia anche senza un marito e un compagno, l'attrice ha ringraziato sua madre per averle insegnato fin da piccola a combattere il morbo dei giudizi e dei tabù, pensando sempre e solo con la sua testa Charlize è la forza dell'intelligenza Oltre ad essere bellissima e talentuosa, Charlize Theron ha dimostrato a tutti, in svariate occasioni, di possedere un'intelligenza alquanto spiccata Da sempre contraria ai giudizi e agli stereotipi, la star di Hollywood non si è mai tirata indietro quando le sono state poste domande, anche scomode, sulla società moderna Oltre ad avere una carriera irresistibile e una famiglia splendida, la Theron ha da sempre dedicato una importante parte del suo tempo alla difesa dei diritti civili, con una particolare attenzione al Sudafrica, sua terra di origine Nessuno spot o gesto plateale, Charlize Theron è una donna che accompagna i fatti alle parole, senza pretendere alcun riconoscimento pubblico Il suo interesse nel combattere le piccole e grandi ingiustizie quotidiane è sincero e puro, proprio per questo motivo i suoi fan non perdono occasione di sostenerla nella sue battaglie quotidiane Leale e determinata, l'attrice ha dimostrato a tutti la forza dell'intelligenza e quanto faccia la differenza impegnarsi nel proprio piccolo affinché le cose cambino davvero, prendendo la direzione giusta Sono in molti a seguire con interesse le sue dichiarazioni e i suoi discorsi in pubblico, certi di scoprire tanto della società, dei suoi errori ma anche delle sue potenzialità Una donna che sta facendo della sua vita un autentico capolavoro di grazia e coraggio, impossibile non provare stima per Charlize Theron La donna che sta facendo della sua vita un autentico capolavoro di grazia e coraggio, non provare stima per la sua vita un autentico capolavoro di grazia e coraggio